Qui tra le mani ho un altro dei mulinelli nuovi di casa Trabucco, questo è il Castforce CX. Fa parte di una famiglia fatta di... fatta, composta di tre modelli che hanno tre definite sigle, cioè questa è la CX, poi c'è l'XLT e l'XSD. Che caratteristiche hanno? L'XSD è il modello, quello normale, 8000, unica taglia. L'XLT è fornito in due taglie, 6500 e 8000. E poi c'è questo CX, perché ho questo che voglio farvi vedere? Perché è questo, a differenza degli altri due. A parte che la taglia è sempre 8000 e le bobine 8000 di tutti e tre i modelli sono compatibili tra loro. Ma questo è il modello ultraleggero, nel senso che ha diverse componenti fatte in carbonio, di un materiale molto leggero, curato nei minimi particolari, ai fini della leggerezza, a tal punto che, questo, abbiate un attimo di pazienza, vi faccio vedere, persino i dischi della frizione, anziché di ferro, sono fatti in carbonio. Quindi è un mulinello leggerissimo, per essere un 8000 comunque ha un albero in acciaio inox, molto ben dimensionato, quindi in grado di fare anche il lavoro duro. Però nel complesso, guardate, ha anche l'imbobbinatura ineccepibile, spine incrociate, avvolgimento lento, però guardate qual è l'imbobbinatura finale di questo mulinello.